Ciao a tutti, hai già perso troppo tempo con gli uomini? Invece di continuare a perdere tempo, fa questo. Perché altrimenti continuerai a perdere altro tempo. Quindi fa questo che ti dico. Allora, quando è che una donna perde tempo con gli uomini? Quando fa delle cose e si ritrova alla fine con un pugno di mosca in mano. Ma prima di affrontare il tema, però, iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare. Abbonando ti potrai scegliere tra quattro livelli di abbonamento. Abbonamento live per partecipare alle live. Abbonamento top per... Abbonamento base che PNL Practitioner non ti puoi perdere il corso di PNL Practitioner. Abbonamento top con in più delle videoregistrazioni seminari dal vivo. Abbonamento Master Consulting con in più una consulenza telefonica. E adesso veniamo al tema. Hai già perso troppo tempo con gli uomini. Invece di perderne altro, fa questo. Allora, che cosa devi fare? Bene, intanto, se hai già perso troppo tempo con gli uomini, ogni volta che incontri un uomo nuovo, devi subito fare rapidamente dei test per capire se può essere l'uomo giusto o meno. Perché se non superi questi test, te lo togli dai maroni e rapidamente. La prima cosa devi capire se sei fedele o meno. Quindi il test fedeltà è la prima cosa che devi fare. E come fai a fare il test fedeltà? Beh, parli con lui, descrivi una situazione di tradimento in cui, diciamo, un uomo tradisce una donna che può essere una tua amica, che può essere qualcuno. Se noti che lui, su queste frasi, quando tu descrivi un uomo che tradisce una donna, lui si mordicca le labbra, si tocca le labbra, tende a venire in avanti, si accarezza, fa questi movimenti qua, significa, oppure fa un sorrisetto di questo genere, significa che lui è uno che fa lo stesso, è uno che tradisce le donne. garantito al limone, come diceva quella pubblicità, per cui lascialo perdere, non stare a perdere ulteriore tempo, perché se stai a perdere ulteriore tempo, non otterrai comunque nessun risultato. Quindi lascia perdere, lascia perdere. E una volta fatto il test, una volta fatto il test del tradimento, devi fare il test per capire se è un narcisista o meno. Quindi osserva il suo comportamento, se ti fa love bombing, se si comporta in modo tale da trattare male le altre persone. Ecco, questo è un test della benevolenza. Il test della benevolenza serve per capire come si comporta con le altre persone. Se interagisce in modo arrogante con, ad esempio, gli strani, i camerieri, in modo irrispettoso, è sicuramente la persona sbagliata. Se è molto sdolcinato con te e con altre persone strane, mette comportamenti sbagliati, comportamenti arroganti, è sicuramente un uomo sbagliato per te. Se è ossessivo, compulsivo, possessivo, geloso, tanto ti tradirà e poi comunque non andrà bene per te. Ecco, queste sono tutte le caratteristiche che tu devi osservare. Poi ce ne sono anche altre, ovviamente. Devi osservare come tu ti senti in questa relazione, se ti senti a tuo agio o se non ti senti a tuo agio. Se devi fare anche il test della menzogna per capire se è una persona che mente, fagli delle domande improvvise. Ah, che hai fatto di ballo di riserva? Osserva dove butta gli occhi. Se li butta in alto alla sua destra, sta costruendo la risposta. Quindi è probabile che ti menta. Se prima di parlarti raschia, è probabile che ti stia mentendo. Quindi le domande devono essere al brucio, diciamo, improvvise, in modo tale che lui non possa ragionare, pre-ordinarsi una risposta. Questo è molto importante. Se tu fai tutte queste verifiche e noti, diciamo, dei risultati positivi, cioè che positivi nel senso che ti dà delle risposte positive, vuol dire che non è la persona giusta per te. Evita di perdere tempo. In più, guarda dentro te stessa. Guarda dentro te stessa se c'è equilibrio nella relazione. Se tu insegui più che, diciamo, essere inseguita, non è la persona giusta. Se tu senti un senso di disagio, non è la persona giusta. Ecco, queste sono tutte delle cose che tu puoi osservare tranquillamente che ti consentiranno di capire se questo può essere veramente la persona giusta per te oppure no. Bene, per questo video è tutto, ma mi raccomando, evita di perdere tempo. Iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai le notifiche dei nuovi video. Seguimi su Instagram, seguimi su TikTok. Ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare. Abbonando ti potrai scegliere quattro livelli di abbonamento. Abbonamento base, con le lezioni mirate, abbonamento top, con le lezioni mirate e videoregistrazioni seminari dal vivo, abbonamento master consulting e poi a un euro al mese l'abbonamento live. con l'abbonamento base e invece ti ricordo a meno di 10 euro al mese che c'è il PNL Practitioner. Ciao a tutti!